Bene, io non ripeterò quello che è già stato detto da un po' da tutti i gruppi, è chiaro che siamo di fronte ad una tragedia di dimensioni globali. Penso che la riflessione che dovremmo fare è più che discutere anno dopo anno, perché si è già discusso più volte di tragedie successe nel Mediterraneo e ci ritroviamo sempre incapaci a prendere le soluzioni fattive. Non credo che quello che è stato statuito al Consiglio sia in grado di poter far fronte a questa emergenza. La riflessione che dovremmo fare è se il metodo intergovernativo che continuiamo ad utilizzare su un tema così importante sia sufficiente a far fronte a quello che è un disastro, un'emergenza di dimensioni davvero incontrollabili. Su questo ci dovremmo fermare a ragionare. Siamo bravi ad utilizzare il metodo comunitario per tutto quello che riguarda commercio, soldi, finanza e quando si parla di vite umane stiamo a fare chiacchiere, risoluzioni, ma non risolviamo il problema. Se l'Unione è un'Unione lo deve dimostrare su questo tema. Grazie.